Allora ringrazio Emanuele Martinelli per la possibilità che ha dato ad ABC di partecipare attivamente a quest'evento che nasceva come un incontro tra pochi soggetti competenti nel settore ed è diventato invece un'occasione di incontro con il mondo istituzionale, universitario, delle imprese e dei gestori che operano qui in Campania e molti dei quali in sinergia proprio con noi. È stata l'occasione per condividere tutta una serie di tematiche che oggi sono di particolare attualità come l'innovazione nel servizio idrico integrato come la qualità delle acque che proprio di recente ha avuto una grande evoluzione con l'emissione del nuovo decreto di ricepimento della nuova direttiva europea sulla qualità delle acque ed è stata un'interessantissima occasione di confronto delle posizioni di tutti i soggetti coinvolti nella filiera del servizio idrico integrato. L'affluenza è stata molto significativa ma soprattutto quello che mi ha colpito è la grande partecipazione dal pubblico e la partecipazione anche nell'ascolto degli interventi che si sono succeduti, il che significa che la scaletta che avevamo individuato con Emanuele nonché le categorie di soggetti che abbiamo chiamato a esprimere il loro parere è stato ritenuto interessante da tutti i partecipanti. Mi auguro che questa sia una prima occasione di confronto allargato tra tutti gli stakeholders che orbitano attorno a questo bellissimo mondo dell'acqua e sono certo che con Emanuele ABC riuscirà ad organizzare altre occasioni di confronto magari su tematiche specifiche in più giornate visto appunto il grande interesse suscitato e il grande successo di questa iniziativa. Grazie per la visione!